per poter ottenere risultati importanti per mantenere questo profilo che è un profilo di collettivo coelizzo, determinato, coelettivo spirito di sacrificio e anche molta umiltà. Oggi quello che è il mio piacere di questa squadra è l'atteggiamento l'atteggiamento, forse aveva i propri mezzi, ma a fine cittadini inizio ha controllato la partita e fino al novantissimo si è messa nella condizione sempre di poter creare ulteriori condizioni di miglioramento del risultato quindi voglio dire una squadra che consapevano i propri mezzi, ma non sottomarla